Buongiorno Gabriele. Buon pomeriggio, grazie per l'ospitalità Alberto. Ovviamente grazie a te, responsabile della comunicazione del settore giovanile del Parma. C'è una bella iniziativa, una serata speciale, questa sera il Cinemastra, un film presentato in anteprima, si chiama Un giorno all'improvviso, visto per la realizzazione il lavoro, la collaborazione del settore giovanile del Parma e dell'Academy, ma di cosa si tratta? Si tratta di un film al quale il Parma Calcio ha subito voluto collaborare nel momento in cui siamo stati contattati dalla produzione. Il protagonista, che questa sera tra l'altro sarà presente al Cinema Astra, Giampiero di Concilio, nei panni di Antonio, vive una gioventù piuttosto travagliata in una zona del Sud Italia non meglio identificata, come tanti ragazzi ha il sogno e la voglia di diventare un campione, per lui però si rivelerà essere una sorta di valvola di sfogo da un'esistenza veramente difficile, soprattutto per l'età che ha. E riuscirà a superare tutto questo perché sarà adocchiato, nella finzione cinematografica ovviamente, da un osservatore del Parma che gli proporrà un provino, provino che lui supererà brillantemente e con questo troverà un raggio di sole nella sua vita travagliata. Il Parma è stato orgoglioso di essere stato scelto, tra l'altro quando ci hanno contattato il sogno promozione in Serie A era ancora abbastanza lontano, si stava lottando ma la magica notte di La Spezia era ben lontana da arrivare, ci hanno portato bene, noi speriamo di portare altrettanto bene a loro, stanno facendo già razzia di riconoscimenti e di successi. Questa sera, se volete venire al cinema, ci saranno anche il direttore sportivo Daniele Faggiano e il top player Antonino Barillà, anche loro di origine del Sud Italia, ma che hanno trovato consacrazione a Parma e quindi insomma vagamente, molto vagamente la loro storia potrebbe somigliare a quella del protagonista del film. Vagamente? Vabbè, sono stati scelti ovviamente apposta ma ci saranno poi anche loro tre protagonisti di questa serata presentata da te con Filiberto Molossi, insomma prezzo d'accesso come biglietto, 5,50 euro poi per gli abbonati, gli iscritti, le famiglie del settore giovanile dell'Academy. Gabriele, allora buona serata, ovviamente appuntamento per tutti essere lì. Certo, grazie mille, vi aspettiamo intanto e questa sera al Cinema Astra, come giustamente ricordava Alberto, prezzo ridotto per tutti coloro che amano il Parma, mi raccomando venite tanti al botteghino dell'Astra questa sera alle 21.